per risolvere i problemi veramente. Volete tornare a sorridere? Volete avere la possibilità di scoprire le verità sul vostro destino? O vogliamo vivere di illusioni, o vogliamo fare la classica telefonata giusto per ingannare il tempo. Perché se vogliamo fare la telefonata per ingannare il tempo, io tolgo la scrivania, mi metto una bella poltrona, un bel tavolinetto, ci metto due cioccolatini, quando è ora di pranzo ci metto due salatini con un bel aperitivo, bel, tranquillo, beato, un po' di musica di sottofondo. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo fare questo o vogliamo veramente risolvere i problemi? Perché sono scelte che dovete fare voi.